Continuano i disagi alle poste di Sapri, l'ufficio resta chiuso dopo l'incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a causa di una macchinetta del caffè lasciata accesa e andata in cortocircuito. L'asla non ha dato ancora l'agibilità e dunque i locali non sono ancora fruibili dopo il fumo, l'annerimento e i danni causati dal fuoco, prontamente spento ma arrivato ad un passo dagli sportelli. Secondo quanto emerge, per rendere di nuovo fruibili gli immobili bisognerà attendere la conclusione dei lavori di ripristino prevista per il 31 agosto. Ma la situazione raggiunge il paradosso visto che stamane i dipendenti del servizio consegne che operano sull'intero territorio smistando la corrispondenza da Sapri sono fermi davanti agli uffici chiusi senza poter esercitare il loro lavoro. Non è chiaro se sia stata l'amministrazione in attesa di risolvere questo clima di incertezza a dare loro la disposizione di rimanere davanti all'ufficio o meno. Di certo l'assurdità è vedere i postini con le mani in mano e la posta in giacenza non consegnata in un momento in cui le poste un po' dappertutto hanno difficoltà a funzionare e riducono gli orari per carenze di personale. Pare comunque che tutto sia sorto per l'intervento di alcuni sindacati che nonostante al piano superiore assegnato alle consegne all'ufficio di Sapri non si siano registrati danni, avrebbero fatto notare che non ci sono le condizioni di sicurezza per consentire ai postini di accedere al loro piano, prendere la posta e svolgere il loro lavoro smistandola e consegnandola sul territorio. In attesa che si pronunci il responsabile della sicurezza, dunque i postini restano fermi lì e la posta in evasa, mentre altri uffici hanno carenze di personale. Per ridurre i disagi il comune di Sapri si è già detto pronto ad individuare e a mettere a disposizione un locale dove poter consentire ai postini di continuare con il loro lavoro. D'altra parte il sindaco di Sapri Giuseppe Delmedico stamattina ha già incontrato il responsabile del servizio clienti e dell'ufficio postale. Insieme hanno deciso di venire incontro alle esigenze della cittadinanza che si troverebbe altrimenti per una decina di giorni priva di ogni servizio. Per questo è stata disposta l'apertura pomeridiana delle poste di Villa Mare a partire da oggi. Inoltre, per aiutare gli anziani diversamente abili e le persone con particolari esigenze, l'amministrazione di Sapri, d'accordo con la Geo, ha attivato un servizio navetta che consentirà a questi di potersi recare presso gli uffici postali di Villa Mare in sicurezza e con minor disagio possibile. Le navette partiranno dalle poste di Sapri alle 9, alle 10 e alle 11 del mattino e alle 15 e alle 16 del pomeriggio. Di certo questo non è un periodo fortunato per l'ufficio postale saprese, preso di mira da finti allarmi su pacchi bomba e incendi.